buongiorno e benvenuti al reparto fiati di scavino io sono andrea oggi vi parlo di due strumenti entry level due trombe da studio chiamiamole così del marchio besson un marchio relativamente famoso un marchio nato in inghilterra nell'ottocento che ha una storia assolutamente di riguardo è diventato celebre ovviamente per la produzione dei famosissimi euphonium besson da un po di tempo ormai è entrato nel mercato anche della produzione di trombe da studio con questo interessante modello che si chiama be 110 fa parte di tutta una serie di strumenti da studio che hanno lanciato ultimamente della gamma new standard questo devo dire che è uno strumento interessante c'è in due disponibili in due finiture argentato e laccato che è questa che vedete qui esposta sono degli strumenti interessanti di soprattutto dal punto di vista costruttivo ad esempio questo strumento qui argentato presenta un'ottima argentatura che tende a durare nel tempo a non perdersi dopo l'utilizzo è uno strumento davvero pronto con un suono libero una tromba dalla facile emissione davvero sfruttabile perché per chi si avvicina allo studio dello strumento i pistoni sono realizzati in monel quindi questa lega molto simile all'ottone ma decisamente più più resistente alla corrosione quindi davvero dal punto di vista costruttivo uno strumento di livello buono guide dei pistoni in plastica che rendono lo scorrimento del pistone estremamente rapido agevole uno strumento davvero interessante per chi si vuole avvicinare allo studio della tromba venite a conoscere a provarlo al reparto fiati di scavino